Nel bel mezzo della capitale dello Stato di Sonora, nascosto tra le strade di Hermosillo, si trova un piccolo paese che a poco a poco è stato abbracciato dalla grande città per diventare il quartiere magico di Villa de Seris. I suoi oltre 250 anni di storia sono testimoniati dalla strada e dagli edifici, come la chiesa di Nostra Signora della Candelaria, una delle più antiche del comune. Goditi gli eventi culturali degustando una típica coyotta nella plazza della Candelaria. Durante la tua prossima visita a Hermosillo, vieni a sperimentare il calore e la bellezza del colorato barrio magico di Villa de Seris.